Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Subito i titoli degli argomenti che andremo a trattare all'interno di questa puntata. Modifica dello statuto della regione toscana, fiscalità di vantaggio per le aree interne, riportare la chimera ad Arezzo. L'Aula ha approvato la proposta di legge di modifica dello statuto della regione toscana. L'atto che prevede la nomina di un sottosegretario e di sette membri dell'ufficio di presidenza del Consiglio è passato con 30 voti favorevoli di PD, Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia, il voto contrario di Italia Viva e la non partecipazione del Movimento 5 Stelle. Io sono davvero contento, nel senso che mi ero posto un obiettivo. L'obiettivo era larga condivisione perché le regole del gioco non si cambiano solo con la maggioranza e che non ci fossero aumenti di costo della politica. Ecco, abbiamo raggiunto entrambi i risultati. È vero c'è stato qualche problema interno alla maggioranza. Io penso alla proposta del collega Scaramelli non potesse essere accettata quella del sottosegretario esterno per un solo motivo perché provocava un aumento di costi e siccome la strada era un'altra con fatica abbiamo cercato in queste settimane di arrivare a un punto di sintesi politica la più larga possibile. Questo punto di sintesi è frutto di un accordo istituzionale, lo voglio risottolineare, istituzionale tra tutte le forze, quasi tutte le forze politiche, Partito Democratico, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia. Il mio compito è di garantire che le regole vengano rispettate e che il Consiglio funzioni nella maniera migliore possibile. Il sottosegretario è una risposta che noi diamo ai cittadini della Toscana e non è chi sarà domani il sottosegretario, a me questo interessa il giusto, a me interessa che ci sia una figura che possa sostenere la Giunta soprattutto sui temi quelli più caldi, ora penso ai temi dei fondi strutturali, penso ai temi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Noi abbiamo la necessità di dare risposte ai cittadini e serviva un'organizzazione ancora migliore. Ritengo che siamo approdati ad una soluzione che raccogliendo la proposta fatta dal Presidente della Giunta di poter avere delle figure, i sottosegretari e lì era previsto anche l'ampliamento della Giunta di un nono assessore per poter lavorare di più e meglio. Abbiamo rielaborato questa proposta approdando a quella che ha trovato un vasto consenso perché quando si vanno a cambiare le regole, in questo caso lo Statuto della Regione Toscana è buona prassi e buona norma a ricercare il massimo della condivisione. Il massimo della condivisione è stato trovato appunto su una soluzione minimale che è quella della previsione di un sottosegretario che può partecipare ai lavori della Giunta senza avere diritto di voto, scelto tra i consiglieri quindi senza nessun aumento di costi per quanto riguarda le indennità e su questo c'è stata un'ampia convergenza come abbiamo visto in Consiglio. Siamo scesi comunque a trovare una soluzione che effettivamente è una soluzione che per noi era percorribile, era quella comunque di un riassetto interno a costo zero. Quindi io credo che si sia potenziato l'ufficio di Presidenza dando la possibilità anche all'opposizione di avere una persona in più a vigilare su tutto quello che da lì dentro passa ed è anche questo senza costi aggiuntivi e quindi abbiamo pensato che fosse opportuno riconoscere che il Consiglio ha fatto uno sforzo rispetto alla Giunta. Certo quello che c'è da evidenziare è che in maggioranza non possono dire lo stesso, qualche problema l'hanno avuto, abbiamo visto il Presidente di Commissione che poi era quello che doveva fare il non assessore all'inizio della legislatura, andarsene arrabbiato decidendo di non votare, abbiamo visto Italia Viva che si è spaccata e che ha riproposto di nuovo i due sottosegretari esterni quindi con un costo che sarebbe gravato sulle spalle dei cittadini. Quindi la maggioranza non può star proprio serena anche perché mi sembra di capire che la Giunta abbia portato un testo di cui Gianni era molto convinto, che infatti non è nemmeno stato illustrato in aula, ma che poi il Consiglio glielo abbia stravolto. La nostra è stata una posizione di contrarietà, l'unica del Consiglio regionale, beh che riteniamo inconcepibile il fatto che in 51 anni di storia della Regione Toscana, dopo 15 modifiche dello Statuto, si arrivi per la prima volta nella storia a modificare quella che di fatto è la Costituzione dei cittadini toscani senza un approfondimento, senza un passaggio di commissione, senza dei passaggi che avrebbero potuto consentire un miglioramento di quella riforma, che noi abbiamo contestato dall'inizio, che poi di fatto il Consiglio ha preso atto delle nostre proposte, ma riteniamo che nel metodo e nella forma ci sia stato un grande errore di arrivare a modificare una legge così importante senza la condivisione di un percorso che avrebbe migliorato quel testo. È evidente che aumentare oggi le poltrone per i politici non serviva a nessuno. Non ci siamo candidati un anno fa, esclusivamente, sapendo che si eleggeva un Presidente che poteva nominare otto assessori. 40 erano consiglieri, queste erano le regole di ingaggio, quindi noi siamo rimasti fedeli all'impegno presi con i cittadini toscani. Io sono orgoglioso di essere stato l'unico a aver votato contro questo statuto nel rispetto degli impegni assunti un anno fa in campagna elettorale con i cittadini toscani. Ho avuto il coraggio e la fermezza di difendere le mie idee al cospetto di un Consiglio che poi legittimamente ha scelto di andare verso un'altra strada, ma io confermo la mia contrarietà in questa prima lettura. Daremo battaglia da qui alla seconda lettura, che sarà fra due mesi e continueremo a tenere ferma la nostra posizione. Lo giudico decisamente surreale, perché abbiamo visto un dibattito che se un osservatore esterno fosse arrivato in Consiglio regionale ieri si sarebbe chiesto in quale strana assise è capitato, perché abbiamo visto una modifica dello statuto proposta dal Presidente della Giunta e il Presidente della Giunta era assente. Il Presidente della prima commissione competente per materia non ha votato e l'ha definito sui giornali una proposta da affossare. Il Vice Presidente del Consiglio regionale di maggioranza ha detto che questa legge ha subito un percorso anomalo. Quindi queste sono le premesse con le quali la maggioranza è arrivata in aula. Per quanto mi riguarda, noi come Fratelli d'Italia avevamo soltanto un obiettivo, che le modifiche venissero fatte nell'interesse, primo, del Consiglio regionale e l'allargamento e l'ufficio di Presidenza sicuramente va in questa direzione, cioè tutela maggiormente il Consiglio, due a costo zero. Le riforme sono state fatte a costo zero senza gravare un euro sulle tasche dei cittadini toscani e questo è l'obiettivo conseguito. Fa sottolineato però, perché è doveroso farlo, che se ieri il Consiglio non avesse emendato la proposta del Presidente Gianni, il Presidente Gianni aveva proposto di istituire due poltrone in più a quelle già esistenti a 7.500 euro l'una e credo che in questo periodo storico sia una cosa indegna anche solo averle apprensate. Noi abbiamo sempre sostenuto fin dall'inizio, quando ci era stato proposto, nove assessori e due sottosegretari esterni che non era la riforma che serviva alla Regione Toscana semplicemente perché avrebbe aumentato i costi. Abbiamo detto sì a una rimodulazione che consentisse al Consiglio regionale di lavorare meglio, alla Giunta di lavorare meglio, a patto che non vi fosse aumento di costi. Ecco perché abbiamo sostenuto la riforma di modifica dello Statuto che prevede un sottosegretario interno e quindi non una persona presa da fuori senza una spesa ulteriore e sì all'allargamento dell'Ufficio di Presidenza perché prevede una rappresentanza maggiore all'interno dell'Ufficio di Presidenza di tutte le forze politiche naturalmente senza aumento di costo. Questo nuovo modello organizzativo consentirà alla Regione Toscana e al Consiglio regionale di essere più efficiente, più efficace, di lavorare meglio e questo significa soddisfare le esigenze dei Toscani. Per questo come Forza Italia abbiamo sostenuto la modifica di riforma dello Statuto e ci ha anche un po' sorpreso il dibattito di questi mesi all'interno di tutti i giornali dove c'erano consiglieri regionali di maggioranza che dichiaravano che la riforma avrebbe aumentato i costi, che i sottosegretari costavano di più forse semplicemente perché quella riforma non riguardava loro stessi, forse semplicemente perché abolendo in un assessore qualcuno che aveva l'ambizione di fare l'assessore oggi non la fa più. Noi non siamo abituati a far politica occupando le persone ma siamo abituati a far politica occupandoci delle persone. In uno dei momenti più difficili della storia della Toscana dalla sua nascita dal 1970 assistiamo a un dibattito surreale, fuori tempo e soprattutto irricevibile riguardo l'aumento del poltrone perché di questo di fatto si tratta, sottosegretari, ufficio di presidenza, tutti aspetti che se già normalmente indignerebbero probabilmente i cittadini perché ci si aspetta che il parlamentino toscano e la giunta, gli amministratori, si occupino di altro, in questo momento scandalizza particolarmente. Nel pieno di un momento in cui l'intera sanità si sta rivoltando contro la giunta per i tagli che sono stati fatti e per la situazione drammatica in cui si lavora, questo consiglio sta lavorando a un aumento dei sottosegretari, a detta loro, in varianza di costi e degli uffici di presidenza di cui francamente non se ne avverte il bisogno e per fare tutto questo si è sottratto un anno di lavoro probabilmente a tante cose ben più urgenti, le scuole, la mancanza continua di aule, i problemi della sanità, i problemi infrastrutturali, molti altri problemi e cosa più grave di tutte, per la prima volta dal 1970 una riforma statutaria non viene presentata dal suo proponente, dal presidente della giunta che oggi si trova per altri affari a Bruxelles e viene difesa dalla sua maggioranza in consiglio. Noi usciremo dall'aula al momento del voto perché qualunque cosa venga votato per i toscani in questo momento non avrà il nostro nome, non avrà il nostro volto e non avrà neanche il nostro voto. Attivare una fiscalità di vantaggio per le aree interne al fine di combattere lo spopolamento e dare nuove opportunità di lavoro soprattutto ai giovani. Questo è l'obiettivo della proposta di risoluzione presentata dalla Commissione per il sostegno, la valorizzazione e la promozione delle aree interne della Toscana presieduta da Marco Nicolai del Partito Democratico e votata all'unanimità dall'aula. Noi abbiamo chiesto come Commissione e lo abbiamo fatto all'unanimità su mia proposta ieri e oggi approvata in consiglio regionale che all'interno della riforma del fisco del nostro paese il governo introduca fiscalità di vantaggio per le aree interne montane. Noi sappiamo che chi apre un ristorante o un'attività in un territorio montano deve sostenere molti più costi ma paga le stesse tasse di un'attività nel centro, di un centro città. C'è uno svantaggio competitivo e deve essere però anche noi la consapevolezza che queste attività hanno anche un valore sociale importante. È una richiesta questa che noi vogliamo fare il governo assieme alle altre regioni però ora è arrivato il momento e è arrivato il momento che le aree interne appunto vengano fatte oggetto di un intervento che ne contrasterebbe sicuramente lo spopolamento. Il Commissione e le aree interne i Fratelli d'Italia hanno lavorato a modificare questo testo che chiede in sostanza al governo e al Parlamento di prevedere una fiscalità di vantaggio per le nostre aree interne che come sapete non sono poche. Noi ci siamo però accontentati di un testo generico, l'ennesimo testo generico perché l'impegno che chiediamo chiaramente è anche quello di Regione Toscana nei confronti diretti delle aree interne. Di fatto la fiscalità è un punto essenziale per questo la proposta di risoluzione arriva all'unanimità in Consiglio ma Fratelli d'Italia nel prossimo è seduto e presenterà diciamo lo specifico su cui bisogna lavorare quindi recupero del patrimonio edilizio, la mobilità e la sanità cioè quei servizi sulle quali è indispensabile poter sigillare non lo spopolamento delle aree montane ma risorgere delle loro comunità. Il percorso è stato diciamo affrontato da tutti i commissari siamo arrivati a questa proposta unanime votata in Consiglio regionale da tutte le forze politiche. gli sgravi fiscali sono importanti in queste zone nelle aree interne, aree insulari, nei comuni di montagna perché qui ci sono delle attività che rischiano di chiudere e invece noi bisogna tenerle aperte. Parlo di bar, ristoranti, attività produttive, attività artigianali in particolare in montagna le attività che riguardano i lavori nel bosco perché sono anche queste attività presidi per il territorio e quindi in queste zone dove è difficile vivere, lavorare, studiare, a volte è difficile curarsi e anche le infrastrutture sono spesso carenti bisogna attuare questa fiscalità di vantaggio. Riportare la Chimera ad Arezzo è quanto chiede attraverso una mozione il consigliere di fratelli d'Italia Gabriele Veneri. La Chimera è una statua in bronzo ritrovata alla fine del Quattrocento durante degli scavi fuori porta San Laurentino nella nostra città. Da allora la Chimera è stata custodita sempre a Firenze e siccome è il simbolo della nostra città e è un valore identitario molto forte per i cittadini di Arezzo, in una fase post-pandemia come questa dove il turismo ha comunque subito e ha portato dei gravi danni in tutte le province italiane, noi pensiamo che la Chimera potrebbe dare un grande slancio all'economia e al turismo della provincia di Arezzo. Crediamo anche che tolta da Firenze non crei dei grandi problemi e non crei dei grandi disagi, anzi Firenze è una città che probabilmente ha anche troppo affollamento turistico e spostare alcune cose nelle altre province minori ce lo insegna anche il progetto degli uffizi diffusi potrebbe essere una grande risorsa. Ed è tutto, questa era la nostra ultima intervista, vi ricordo che Cronaca e Commenti torna la prossima settimana. Grazie a tutti. Grazie a tutti.